buongiorno a tutti e benvenuti al webinar di oggi siamo partiti dalla slide sbagliata io sono l'ingegnere Borriello di Dlubosoft Italia oggi vedremo insieme come progettare e verificare profilati sottili piegati a freddo oggi con me c'è Enrico, responsabile italiano del processo di localization del software e del sito internet che vi darà una mano nel caso abbiate problemi tecnici durante il webinar quando si parla di acciaio strutturale lo sappiamo si finisce spesso a parlare di sezioni in parete sottile ossia di profili ottenuti attraverso la piegatura a freddo di lamiere con uno spessore molto piccolo e ciò perché sono elementi questi che sono diffusamente impiegati in vari settori della carpenteria pesante a partire dai classici arcarecci ad esempio dei capannoni industriali che è poi l'esempio che vedremo oggi per passare alle travi di attacco dei tamponamenti grecate per non parlare poi di tutto il mondo delle scaffalature metalliche che fa largo uso di profilati a freddo e dei sistemi modulari per l'edilizia residenziale quindi è un tema molto caldo per chi ha a che fare con lo studio noi oggi utilizzeremo RSTAB come programma principale ma le stesse considerazioni valgono pari pari per RFM e tralasceremo tutta la parte che riguarda la modellazione geometrica e la definizione dei carichi e delle combinazioni di carico in RFM o in RSTAB per chi fosse invece interessato a saperne di più su questi temi può magari pensare di iscriversi ad uno dei nostri corsi di formazione online di base su RFM ma anzi colgo l'occasione magari per mostrarvi come si fa velocemente dal nostro sito si va su global.com e nell'area nella sezione assistenza e formazione terza colonna quella dedicata alla formazione c'è proprio un link denominato corsi di formazione online di default saranno mostrati tutti i corsi di formazione in italiano e in inglese però io con questo menu a sinistra posso filtrare tutti i corsi solo in italiano e a quel punto ho l'elenco appunto dei corsi base su RFM poi nei prossimi mesi saranno pubblicati anche altri tipi di corsi e io per iscrivermi semplicemente clicco sul link entro nella pagina descrittiva del corso corrispondente con la scaletta e il programma dei lavori e poi nella parte bassa posso semplicemente cliccare su questo pulsante qui in basso a sinistra i corsi sono completamente gratuiti durano due ore e mezza, tre ore e alla fine del corso sarete sostanzialmente capaci di utilizzare RFM in maniera completamente autonoma come sempre vi invito a porre delle domande lo potete fare utilizzando il pannello di controllo che se non visualizzate basta cliccare su questa freccetta arancione qui in alto a sinistra e lasciare le vostre domande nel riquadro apposito ad esse dedicato tutte le domande saranno risposte alla fine del webinar tramite email quello che vedete è il programma di oggi daremo inizialmente delle informazioni sulla base informazioni base sulla determinazione delle proprietà della sezione trasversale efficace poi vedremo come modellare la sezione trasversale di un profilo piegato a freddo di qualsiasi forma nella nuova versione del programma Standalone Shape Thin nella versione numero 9 e infine utilizzeremo quel profilato in una struttura in telaiata spaziale in RSTAB e procederemo con tutte le verifiche del caso questa slide è molto importante perché chiarisce schematicamente il workflow il flusso di lavoro che si deve eseguire quando si ha a che fare con dei profilati piegati a freddo la prima domanda che mi devo porre è questo cioè sto utilizzando un profilato ad L, a Z, ad Omega, a quello che è ma che appartiene alla libreria di sezioni trasversali di RFM o di RSTAB chi conosce già i programmi di Ubisoftra sa che i programmi principali RFM ed RSTAB includono già una vastissima libreria di sezioni trasversali che poi magari dopo ci diamo uno sguardo e se il profilo che sto utilizzando nella mia struttura appartiene alla libreria delle sezioni trasversali di RFM o di RSTAB posso utilizzarlo ovviamente per modellare geometricamente la mia struttura e poi determinare le caratteristiche efficaci nel modo aggiuntivo still code nel caso invece in cui questo profilo non è presente seppur vasta libreria di RFM o di RSTAB allora posso utilizzare il programma stand-alone shape-thin che è un programma stand-alone quindi non dipende da RFM o da RSTAB può essere acquistato e avviato in maniera indipendente ed è il programma dove io posso definire in maniera completamente libera qualsiasi tipo di profilo in parete sottile o piegato a freddo una volta definito il profilo in shape-thin ovviamente io lo calcolo calcolo le proprietà della sezione efficace e poi me lo importo di nuovo in RSTAB dove posso utilizzarlo per modellare geometricamente la mia struttura un'altra domanda che mi devo porre è se sul mio profilo se sto lavorando su profili non doppiamente simmetrichi e c'è torsione o flessione deviata in questo caso è un altro modulo aggiuntivo che è RF Steel Warping Torsion per fare un'analisi di stabilità con la considerazione di 7 gradi di libertà o altrimenti posso procedere poi con le verifiche allo stato limite ultimo di esercizio e di stabilità secondo appunto la parte 1.3 dell'Eurocodice 3 è bene chiarire che qui io sto lavorando sempre con un unico modulo aggiuntivo che è Steel EC3 diciamo da questa parte qui in basso Cold Phone Section e Warping Torsion non sono altro che delle non sono dei moduli aggiuntivi sono effettivamente delle estensioni modulari di Steel EC3 quindi io lavoro sempre in un solo modulo questo magari lo vediamo più chiaramente dopo nell'esempio pratico qui tratteggiato abbiamo il percorso che faremo oggi quindi utilizzeremo, andremo a definire una stazione poi ce la importeremo in RSTAB e attiveremo anche l'estensione modulare Warping Torsion perché abbiamo noi flessione deviata sul nostro profilo e poi procederemo con le verifiche di stabilità e allo stato limite ultimo di esercizio ok andiamo, siamo punti per entrare nel vivo della nostra presentazione questo è RSTAB il programma principale questa è la struttura sulla quale lavoriamo oggi è un classico capannone industriale che è stato generato in maniera molto veloce utilizzando uno dei generatori automatici disponibili in RSTAB e in RFM qui sotto il menu a tendina strumenti genera modello la possibilità di generare automaticamente varie strutture ricorrenti come una trave continua, un telaio 2D, un telaio tridimensionale una scala, una travatura reticolare noi abbiamo utilizzato capannone 3D il generatore automatico vi consente di sostanzialmente generare con un click del mouse una struttura anche complessa come quella che vediamo sullo sfondo ovviamente inserendo alcuni dati di input tutti i dati di input che mi richiedono le schede che quel generatore automatico possiede per esempio i dati relativi alla geometria, ai vincoli esterni alla parte diciamo relativa ai controventi le sezioni trasversali e infine anche i carichi e una volta che io confermo questa finestra di dialogo cliccando su ok appunto viene generato viene generata la mia struttura in RSTAB vengono generati anche i carichi qui abbiamo i carichi, i casi di carico generati in generati magari possiamo dare uno sguardo questi sono i carichi devuti al peso proprio poi abbiamo il carico da neve quelli del vento ovviamente nelle varie direzioni in cui agiscono e poi abbiamo le imperfezioni in una direzione e nell'altra delle colonne in acciaio e infine il pretensionamento diciamo dei nostri assi di controvento che in questo caso sono degli angolari 60x60 andiamo più nello specifico andiamo a vedere cosa è stato utilizzato per i nostri arcarecci in questo caso per quanto riguarda gli arcarecci si è utilizzata una trave, una IP 160 immaginiamo quindi di voler utilizzare invece di una IP 160 un profilo AZ che non appartiene alla libreria delle sezioni trasversali di RSTAB come posso fare? ovviamente in questo caso non posso selezionare l'alberia ma devo andare nel programma Shape Thin e creare la mia sezione ed è quello che faremo possiamo entrare nel Shape Thin che è un programma che mi consente di modellare qualsiasi sezione trasversale utilizzando anche direttamente la parte dell'area grafica oppure di importare la sezione questa è una caratteristica molto apprezzata dai nostri clienti da un DXF e che è quello che faremo oggi quindi andiamo nel menu file e importa utilizzeremo in questo caso appunto il file DXF col nostro profilo AZ gli dobbiamo dare un nome lui automaticamente assegna a questo file il nome del DXF che abbiamo importato e di questa sezione vogliamo calcolare sia le caratteristiche della sezione lorda ma anche quelle della sezione trasversale efficace e fin da subito possiamo accedere a questa finestra di dialogo relativa ai parametri di calcolo questa è una finestra alla quale io posso accedere in qualsiasi momento lo stesso in Shape Thin e qui in questa finestra di dialogo è composto da due schede la prima parametri di calcolo generale dove diciamo non andremo a modificare nel nostro caso nulla a parte quello di assegnare un materiale alla sezione e questo lo posso fare accedendo alla libreria dei materiali di Shape Thin che poi è la sesta libreria che mi ritrovo anche in Rstub e in RFM anche questa è una libreria molto vasta i materiali sono divisi per gruppi quindi ho i calcistruzzi, i metalli, i legni, i vetri e così via all'interno di ogni gruppo ci sono poi le varie categorie quindi l'acciaio, l'acciaio inossidabile, l'alluminio eccetera nel nostro caso utilizzeremo un acciaio e posso anche filtrarle per normativa utilizzeremo per esempio gli eurocodici e andremo a utilizzare un S235 qui sta ovviamente la lista di tutti i materiali che corrispondono ai filtri che ho impostato a sinistra e quando io clicco su un materiale vedete nella parte bassa queste sono tutte le proprietà ovviamente che fanno riferimento al materiale che ho selezionato nella parte alta nel caso in cui non dovessi trovare il materiale nella libreria posso sempre crearne uno nuovo utilizzando questo pulsante qui in basso a sinistra crea nuovo materiale noi utilizzeremo oggi un acciaio S235 clicchiamo su ok e possiamo passare alla seconda scheda quella dedicata appunto alle proprietà della sezione efficace qui troviamo le normative implementate attualmente in ShapeThin vedete che è implementato anche per esempio l'aerocodice 9 per le sezioni di alluminio ovviamente nel nostro caso nel webinar di oggi interessa selezionare la parte 1.3 dell'aerocodice 3 quella dedicata appunto ai profilati piegati a freddo e qui in alto a destra possiamo diciamo selezionare o meno alcune opzioni che andiamo un attimo ritorno un attimo nella mia presentazione e perché diciamo noi questa slide vediamo un attimo come lavora anche il software noi sappiamo che le sezioni dei profilati piegati a freddo sono costituite da elementi piani collegati tra loro con elementi di raccordo curvilinei e una delle prime cose che fa il software è quella di andare a verificare tutte quelle che sono le proporzioni geometriche che le sezioni trasversali dei profilati a freddo devono rispettare affinché appunto possano essere progettate con le regole scritte nella parte 1.3 dell'aerocodice 3 e quindi c'è tutta una serie di limitazioni in termini di rapporti massimi tra larghezza e spessore le dimensioni degli rigidimenti di bordo indicate nel paragrafo 5.2 dell'aerocodice 3 che possono essere appunto verificate in shape thin viene tenuta in conto l'instabilità locale attraverso la determinazione della sezione trasversale efficace e quindi utilizzando le proprietà della sezione efficace calcolate secondo il metodo delle larghezze efficaci e la considerazione dell'instabilità torsionale invece che interessa solitamente i profili aperti con i rigidimenti risulta decisamente un po' più articolata e quindi deve contemplare delle fasi di progettazione in più rispetto alla sola instabilità locale in particolare ad esempio la definizione di un modello di calcolo nel quale l'irrigidimento ha un vincolo parziale di continuità cioè visto come un'asta praticamente vincolata a lungo tutto ha la sua lunghezza e dove la rigidezza di questo vincolo dipende sia dalle condizioni al contorno sia dalla rigidità flessionale degli elementi adiacenti a cui è collegato poi diciamo l'elemento di interesse e in dettaglio questa rigidezza può essere determinata attraverso l'applicazione di una forza unitaria U per unità di lunghezza e ricavando lo spostamento delta dell'irrigidimento causato appunto dall'applicazione di questa forza poi questo modello numerico lo vedremo tra poco perché viene generato automaticamente da RFM poi c'è il calco della tensione critica elastica dell'irrigidimento dove I con S e A con S sono rispettivamente il momento di inerzia e l'aria efficaci dell'irrigidimento il calcolo del coefficiente riduttivo chi condì per la resistenza a instabilità distorsionale e infine il calcolo dello spessore equivalente ridotto dei bordi e degli irrigidimenti intermedi o di qualsiasi altra parte della sezione asversale soggette a instabilità distorsionale e parte di questi questi veriti che possono essere appunto attivate come vedete direttamente in shape thin in questa sezione dedicata alla sezione asversale efficace questi sono i rapporti tra larghezza e spessore BT, HT eccetera eccetera indicati nella tabella 5.1 qui c'è la possibilità di mostrare il modello numerico di RFM che viene generato automaticamente adesso non la spuntiamo perché io l'ho già già fatto prima del webinar quindi lo vedremo solamente qui possiamo quindi poi confermare ok anche nella finestra successiva ed entrare in shape thin a questo punto io gli posso dare siccome io nel mio DXF ho disegnato sostanzialmente la linea centrale a questa linea centrale utilizzo questa seconda opzione nella quale posso dare uno spessore nel nostro caso sarà 2 mm assegno il materiale già assegnato e qui gli posso dare anche il punto di inserimento all'interno della D-shape thin e gli dico applica questa è la nostra sezione Z con i vari elementi gli rigidimenti che abbiamo importato dalla file DXF vedete che qui nel primo gruppo di tabelle quelle dedicate diciamo ai dati geometrici le larghezze nozionali le larghezze diciamo ideali degli elementi piani sono state già calcolate quindi per esempio la larghezza numero 1 è quella riferita all'elemento 13 questo qui in basso a sinistra vengono definiti in maniera automatica da shape thin anche le condizioni vincolari in questo caso un'estremità è vincolata l'altra no e poi viene calcolata in maniera automatica anche la larghezza ideale BP del mio elemento piano l'unica cosa che dobbiamo inserire in shape thin sono praticamente gli rigidimenti e i pannelli lo possiamo fare utilizzando sia il navigatore progetti qui abbiamo due cartelle quella degli rigidimenti e dei pannelli facendo clic col pulsante destro del mouse sulla cartella posso selezionare poi nuovo rigidimento nel menu contestuale che mi appare e qui posso scrivere numericamente il numero degli elementi oppure anche selezionarli graficamente quindi quello che faremo adesso posso utilizzare poi anche le tabelle facendo doppio clic per esempio sul secondo di rigidimento si avvierà la stessa finestra di dialogo in questo caso appunto possiamo cominciare a definire anche gli rigidimenti anima e infine dell'ultima ala ok e faccio la stessa cosa anche per quanto riguarda i pannelli con il stesso procedimento doppio clic sulla relativa riga anche in questo caso posso selezionare il pannello graficamente e quindi poi procedo con la definizione dell'ala dell'anima e infine quello relativo alla l'ala inferiore ok a questo punto siamo praticamente pronti per eseguire il calcolo e posso avviare i risultati Shapedin mi avviserà che con un warning che dice non è stato definito nessun caso di carico le proprietà della sezione adversale efficace non saranno calcolate questo è giusto perché ovviamente per calcolare le proprietà della sezione efficace dobbiamo caricare questa sezione come vi dicevo però anticipatamente nelle slide questo non è necessario perché a me importa solo calcolare la diciamo le proprietà della sezione salvarla e poi importarla nel restab perché poi è lì che vengono anche lì calcolate sostanzialmente le proprietà della sezione trasversale efficace quindi qua possiamo dire ok vedete che ovviamente tra i risultati abbiamo tutte le proprietà della sezione trasversale che noi possiamo eventualmente salvare e quindi importare poi in restab però giusto per una questione di completezza possiamo andare a vedere anche come Shapedin poi va a calcolare le proprietà efficaci della mia sezione per fare questo devo definire prima un caso di carico nel quale poi andremo ad inserire dei carichi ad esempio gli possiamo dare una forza assiale pari a meno un kilonewton e qui gli diamo tutto zero per quanto riguarda le altre azioni interne a questo punto siamo pronti per avviare il calcolo e in questo caso viene calcolata anche la sezione efficace che posso visualizzare utilizzando quest'altro gruppo di tabelle ad esempio posso ovviamente in questo caso appare una scheda quella dei risultati nel lettore progetti dove posso valutare anche quelli che sono gli andamenti delle sigma con x quindi delle sigma delle tau della sigma equivalente e qui ho praticamente due tipi di risultati uno relativi alla sezione trasversale lorda e quelli relativi alla sezione trasversale efficace e qui abbiamo appunto le proprietà elencate della sezione trasversale efficace che tra poco ci importeremo nel restab la cosa interessante da notare è per esempio vedere che nella parte centrale qui c'è stata sostanzialmente una rottura completa totale della mia sezione mentre nella parte superiore abbiamo avuto una riduzione diciamo dell'ala superiore che poi si riflette anche nell'irrigidimento qui dell'anima quindi c'è stata una riduzione dello spessore e la stessa cosa viene riflettuta diciamo pari pari nella parte nella parte bassa quindi nell'ala inferiore dove c'è stata una riduzione di spessore ma anche nel rigidimento inferiore ok siamo pronti per salvare la sezione la salviamo torniamo in restab e vediamo adesso come aggiornare velocemente come importare velocemente questa sezione che abbiamo definito in shape thin direttamente nel nostro modello in restab possiamo utilizzare per questo il navigatore progetti sappiamo che nel navigatore progetti ci sono tutti i dati che sono stati utilizzati per la modellazione della nostra struttura tra cui ovviamente le sezioni trasversali che stiamo utilizzando e cliccando sulla IP 160 vedete che io riesco a selezionare in maniera molto rapida tutte le aste che hanno quella sezione trasversale e quindi se voglio posso modificare molto velocemente facendo doppio clic su questa sezione trasversale tutte le aste appunto assegnando una nuova sezione trasversale questa è la libreria di restable gli diamo magari uno sguardo veloce nella libreria come dicevamo abbastanza vasta nella quale abbiamo tutta una serie di sezioni trasversali divisi in gruppi c'è il gruppo delle sezioni laminate quelle parametriche in paese sottie dove vado a definire poi nel dettaglio tutti quelli che sono diciamo lo spessore e la grandezza delle ali anche eventualmente delle saldature eccetera poi ovviamente ho la parte dedicata al calcio e struzzo con le sezioni piene quelle dedicate al legno e anche una parte dedicata alle sezioni composte quindi io direttamente nel restable posso comporre alcune sezioni di acciaio e utilizzare appunto una sezione composta direttamente nel mio modello se clicco poi su una forma per esempio le sezioni a z che è quella che utilizzeremo tra poco ovviamente entro diciamo in questa ulteriore finestra di dialogo dove sono elencate tutte le sezioni a z e le sezioni sono ovviamente divise per normativa o per produttore e nel momento in cui clicco su una particolare sezione ho poi tutte le sezioni con i vari valori dimensionali insomma delle varie sezioni che posso selezionare e quindi usare direttamente in Rstab ovviamente questo non è il nostro caso perché la nostra sezione a z non era presente appunto in questa libreria allora quello che posso fare è andare qui utilizzare questo pulsante in alto a destra importa sezioni trasversali al programma shape thin in questo caso la mia sezione era stata definita in questa cartella la seleziono gli dico ok me la importo assegno il materiale gli dico ok e vedete che in un click ho semplicemente aggiornato molto velocemente tutte quelle che sono le sezioni dei miei arcarecci della mia struttura e ho importato esattamente la sezione trasversale che avevo definito in shape thin in Rstab siamo pronti a questo punto per utilizzare il modulo aggiuntivo still ecci3 lo apriamo e per coloro che seguono il webinar di Drupalsoft per la prima volta i moduli aggiuntivi non sono altro che una finestra di dialogo che si apre direttamente in Rstab questo mi dà la possibilità di lavorare sempre all'interno di uno stesso programma e quindi di evitare magari di andare su desktop aprire altri programmi passare da un software all'altro e così via tra i moduli aggiuntivi e Rstab o RFM c'è una integrazione totale automatica e quindi non devo preoccuparmi di importare o esportare i dati da RFM ai moduli aggiuntivi o viceversa ma solo di inserire i dati di impulso ulteriore necessari per la verifica delle membrature di acciaio in questo caso ovviamente tutti i moduli aggiuntivi anche se assolvono funzioni diverse hanno tutti la stessa struttura e quindi quando ho imparato ad usarne uno praticamente li so usare tutti indipendentemente dal fatto che sto lavorando con una struttura di legno o una struttura di acciaio di alluminio di calcestruzzo armato e così via e la struttura è molto semplice ed è la seguente qui a sinistra ho delle finestre e io non devo fare altro che andare da una finestra all'altra ed inserire nella parte destra tutti i dati di input che quella finestra mi richiede quando le finestre di input sono finite semplicemente vado su calcola e qui appariranno altre finestre che sono relative ai risultati partiamo ad esempio dalla prima dati generali qui ovviamente vado a definire l'appendice nazionale che voglio utilizzare per le verifiche nel nostro caso ovviamente l'appendice italiana sono presenti appendici diciamo della maggior parte dei paesi europei con questo pulsantino qui posso anche andare a verificare a controllare tutti quelli che sono i coefficienti che saranno utilizzati per le verifiche c'è una sezione dedicata anche ai profilati piegati a freddo e posso eventualmente anche creare una nuova appendice nazionale qui nella parte bassa devo selezionare quelle che sono diciamo i casi di carico o gli inviluppi le combinazioni di risultati che voglio selezionare appunto per la verifica nel nostro caso lo stato limite ultimo utilizzeremo l'inviluppo allo stato limite ultimo e allo stato limite esercizio utilizzeremo l'inviluppo allo stato limite esercizio ovviamente qui vi dico diciamo quali aste o set di aste progettare nel nostro caso utilizzeremo dei set di aste perché abbiamo flessione biassiale quindi dobbiamo attivare il warp intorsionale che funziona sui set di aste vedete che quando inizio quando inserisco un set di aste a caso ho inserito il primo set di aste disponibile qui appaiono altre finestre che mi consentono di andare a definire nel dettaglio quelle che sono per esempio le condizioni di vincolo di quel set di aste quindi nel nostro caso andiamoci a creare ad esempio dei set di aste per i nostri i nostri arcareggi come posso fare posso utilizzare quelle che in Rstab e in RFM vengono definite visibilità che trovo nella scheda vista del navigatore progetti le visibilità sono una sorta di viste parziali diciamo così che Rstab genera automaticamente durante la modellazione della nostra struttura e sono delle viste che mi consentono per esempio qui abbiamo delle aste divise per eccentricità per materiale per tipo e nel nostro caso per esempio io voglio selezionare tutte le aste che hanno appunto la sezione arversale importata da Shape Thin mi basta inserire il segno di spunta in questa voce e vedete che ho isolato molto velocemente la mia struttura e quindi posso selezionare posso ovviamente lavorare sulla mia struttura molto più facilmente in questo caso selezionando per esempio tutti gli arcarecci di questa campata pulsante destro Asta Crea sed di aste e vengono creati automaticamente da Rstab 20 sed di aste ognuno ovviamente per ogni arcareccio che abbiamo selezionato esco dalla visibilità utilizzando questo pulsante e ritorniamo di nuovo nel modulo aggiuntivo Stile C3 in questo caso possiamo a questo punto selezionare diciamo l'arcareccio di interesse nel nostro caso utilizzeremo per esempio questo arcareccio qua il numero 18 e quindi andiamo avanti la seconda finestra la finestra materiali solitamente niente perché qui il modulo aggiuntivo si importa automaticamente il materiale utilizzato nella struttura di Rstab con le sue caratteristiche e quindi se io qua non voglio modificare il materiale utilizzato solitamente non faccio niente vado avanti nella terza scheda relativa alle sezioni trasversali anche in questo caso vengono importate automaticamente tutte le sezioni trasversali sono in grigio perché non saranno verificate semplicemente perché non le abbiamo selezionate qui nella parte iniziale abbiamo selezionato solo l'arcareccio che ha come sezioni trasversali quella importata da ShapeThin che è l'unica in nero quindi è l'unica che sarà verificata però anche qua se voglio posso eventualmente modificare anche le sezioni trasversali nel modulo aggiuntivo una scheda importante può essere questa quella relativa ai vincoli esterni laterali intermedi questa finestra mi consente di inserire dei vincoli laterali che per una questione di comodità magari non ho disegnato non ho modellato direttamente in RSTAB per esempio se torniamo un attimo alla nostra presentazione posso avere nella realtà una situazione del genere quindi con degli arcarecci che sono vincolati in qualche modo con delle funi qui nella parte centrale ebbene questa è una situazione che magari io in RSTAB non ho voluto modellare per una questione di semplicità ma di cui voglio tenerne conto durante le verifiche questo lo posso fare utilizzando appunto questa finestra vincoli esterni laterali intermedi qua gli dico sì voglio un vincolo laterale ci sono vari tipi di vincolo possiamo scegliere per esempio anche uno definito dall'utente gli dico guarda queste i miei arcarecci sono vincolati diciamo nella direzione Y non voglio vincolarli diciamo nella rotazione intorno all'asse Z posso assegnare anche un'eventuale eccentricità ma nel nostro caso l'eccentricità è zero perché diciamo la fune è collegata proprio diciamo sull'asse baricentrico del mio del mio arcareccio e posso decidere anche in quanti punti vincolare il mio arcareccio lateralmente nel nostro caso è solo c'è solo un unico vincolo ed è praticamente a metà asta quindi numero di vincoli laterali uno e diciamo nella posizione a zero al 50% insomma a metà del mio arcareccio questa finestra è molto importante perché questo ci permette di definire poi quelle che sono le reali condizioni di vincolo diciamo del mio arcareccio per fare questo però devo prima andare nella finestra dettagli dove posso andare a definire delle impostazioni diciamo avanzate che saranno tenute in conto durante la verifica per le schede state a limite ultimo stabilità esercizio lasciamo tutto com'è attiviamo il warp intorsion quindi l'analisi del secondo ordine con la considerazione di 7 gradi di libertà questo è l'estensione modulare di cui vi parlavo precedentemente nelle slide e attiviamo anche l'estensione dedicata ai profili formati a freddo questo vedete che questi tre questi sono tre estensioni warp intorsion il particity e il cold form che sono integrati totalmente in stile c3 quindi se voglio posso acquistarli separatamente e integrarli direttamente nel modulo aggiuntivo e per chi fosse interessato a saperne di più sul funzionamento di warp intorsion esiste un webinar sul nostro canale youtube dilupa software italia è il webinar numero 11 se lo cercate lì c'è proprio un esempio pratico dove viene utilizzato e viene spiegato in modo dettagliato il modulo diciamo l'estensione modulare warp intorsion nel nostro caso oggi ci interessa il cold form section questo qui che abbiamo attivato inserendo il segno di spunta in questa opzione e qui possiamo anche inserendo il segno di spunta anche in questa opzione è possibile eseguire anche un'analisi di stabilità secondo quanto riportato nel punto 2 del paragrafo 625 per tenere conto dell'interazione tra momento flettente e sforzo normale questa è un'opzione che però noi nel nostro caso non possiamo attivare perché abbiamo flessione biassiale e quindi dobbiamo procedere con l'analisi del secondo ordine eventualmente posso attivare anche queste altre due opzioni cioè quindi anima senza rigidimenti ai vincoli questo va a modificare il calco della resistenza a taglio per instabilità e anche la verifica del comportamento del mio profilo quando è sottoposto a forze trasversali questo non è il nostro caso però quindi non la attiviamo magari qua nella parte finale vi faccio vedere un articolo sul nostro sito internet che è proprio dedicato appunto al comportamento del profilo piecato a freddo quando è sottoposto a forze trasversali locale potrebbe essere interessante per alcuni di voi e qui vedete che nel momento in cui attivo WarpointOcean qui i gradi libertà diventano 7 c'è anche l'ingobbamento e qui ho la mia struttura ho il mio arcareccio che posso anche isolarmi con questo pulsante quindi posso andare a verificare quelle che sono poi le condizioni di vincolo che posso andare a definire nel dettaglio qui in questa in questa finestra di dialogo qui in alto a destra per esempio possiamo rilasciare lo spostamento in direzione X in uno degli appoggi c'è la possibilità di inserire dei vincoli interni non è il nostro caso per i dati di esercizio e quindi per le verifiche allo stato limite di esercizio utilizzeremo ovviamente sempre il nostro accarezzo 18 in questo caso la lunghezza viene importata automaticamente la direzione siccome è vincolato nella direzione U utilizzeremo solo la direzione V e infine c'è un'ultima finestra e anche questa finestra ci dà la possibilità di inserire degli elementi aggiuntivi non modellati nel restab ma di cui vogliamo tener conto e che sostanzialmente vanno a vincolare le nostre travi lateralmente come ad esempio la presenza di una lamiera aggregata che ha ovviamente un'influenza positiva sull'instabilità flesso torsionale e in questo caso quindi attivo il pannello di taglio ci sono vari tipi di pannelli di taglio noi utilizzeremo una lamiera trapezoidale gli diamo le nostre diciamo le informazioni geometriche della diciamo della nostra struttura e qui gli posso dire anche dove poi è posizionata diciamo questa lamiera aggregata nel nostro caso sull'ala superiore e posso poi anche importarmela direttamente dalla libreria in questo caso noi utilizzeremo una lamiera aggregata per esempio della Tissen Group e magari utilizziamo questa qui confermiamo e in questo caso nel momento in cui seleziono la lamiera aggregata importata dalla libreria i coefficienti k1 e k2 vengono calcolati in maniera automatica e fissiamo questa lamiera aggregata in ogni innervatura e lasciamo così quindi siamo pronti per eseguire il calcolo in questo caso confermo in modo l'aggiuntivo apro un altro file che ho già calcolato per una questione di tempo quindi torniamo in still e c3 e qui vedete che dopo aver eseguito il calcolo ci sono diciamo altre finestre che quelle sono relative ai risultati nei quali abbiamo i risultati ovviamente ordinati secondo criteri diversi qui si sono gli stessi risultati per ordinati per caso di carico per sezione trasversale per set di asta per posizioni x eccetera eccetera e ad esempio se vediamo i risultati ordinati per caso di carico qui abbiamo i due casi di carico i due inviluppi che abbiamo utilizzato selezionati per aver selezionato per per le verifiche quindi allo stato limite ultimo dove abbiamo un rapporto di progetto pari a 0,86 quindi un tasso di utilizzo pari all'86% e qui invece allo stato limite di esercizio abbiamo un tasso di utilizzo allo 0,62 nel momento in cui clicco su una verifica nella parte alta vedete che la parte bassa si aggiorna con i relativi dati intermedi quindi per esempio per le verifiche allo stato limite ultimo qui abbiamo posso controllare a valutare tutti quelli che sono stati tutti i dati intermedi che sono stati utilizzati per diciamo la verifica in questo caso per giungere a questo rapporto di progetto quindi a cominciare dalle proprietà del materiale dalle proprietà della sezione trasversale che abbiamo definito in shape thin dalle forze interne di progetto che sono state importate automaticamente da rstab le proprietà della sezione trasversale efficace a forza assiale a flessione intorno a u intorno a v eccetera che sono state calcolate poi nel modulo aggiuntivo cold form section sono state utilizzate poi per le verifiche e infine abbiamo poi i parametri relativi al pannello di taglio che abbiamo inserito e i dati tutti i dati utilizzati poi invece per la verifica e il calcolo del rapporto di progetto nell'ultima colonna qui avrete sempre in quasi in tutti i modi aggiuntivi il riferimento all'eurocodice quindi io con la normativa aperta sulla mia scrivania posso controllare come è stato calcolato quel coefficiente quel valore che equazione è stata utilizzata quale paragrafo dell'eurocodice fa riferimento ad esempio l'equazione utilizzata in questo caso è la 6.11a e quindi posso controllare tutti i dati intermedi che poi in modo aggiuntivo utilizza per le verifiche questi risultati posso visualizzarli anche graficamente se entro su area di lavoro vedete che qui nella parte diciamo nel navigatore progetti si attiva la scheda risultati come accadeva in shape thin e qui posso appunto verificare graficamente quelli che sono per esempio le verifiche qui ho il rapporto massimo vediamo che così quasi tutti gli arcadeci si comportano più o meno nello stesso modo tranne quelli relativi diciamo al colmo e quelli nella parte laterale delle due falde e poi posso anche eventualmente selezionare e visualizzare quelle che sono le forze interne di calcolo derivanti dall'analisi di warping torsion quindi sforzi normali i tagli i momenti il momento torcente primario secondario e così via ovviamente questa è un'immagine che io posso stampare direttamente nella relazione di calcolo bene questo conclude il nostro webinar di oggi però prima di lasciarvi vorrei innanzitutto raccomandarvi di visitare il nostro sito intratradurbo.com che costituisce la principale fonte di informazione informazioni è un sito ricco di servizi e strumenti che risultano spesso utili a chi si occupa di progettazione strutturale come ad esempio video webinar tutti i webinar registrati ci sono dei tool gratuiti gratuiti per la generazione automatica delle proprietà delle sessioni espressali ad esempio la nostra knowledge base a questo punto mi interessava magari farvi vedere quell'articolo tecnico e praticamente io vado sempre sul druba.com assistenza formazione e poi nella prima colonna quella relativa all'assistenza c'è la sezione knowledge base che sarebbe una raccolta di tutti gli articoli tecnici che vengono pubblicati quasi giornalmente dagli ingegneri del nostro supporto tecnico e ce ne sono tanti che riguardano svariati temi dell'ingegneria strutturale qui posso in qualche modo filtrare gli articoli tecnici per esempio per prodotto selezioniamo still call form section ad esempio e tra i vari articoli c'è proprio quello che vi annunciavo poc'anzi la progettazione di forze trasversali locali in base diciamo secondo la parte 1-3 dell'Eurocodice dell'Eurocodice 3 l'articolo è ricco diciamo di informazioni ci sono le formule ci sono tutto spiegato attraverso delle immagini è possibile scaricare anche il modello di RFM utilizzato nell'articolo e solitamente trovate anche un video che spiega poi diciamo in maniera grafica il testo dell'articolo tecnico e ovviamente per restare sempre aggiornati su novità eventi gli eventi a cui parteciperemo i futuri corsi di formazione i webinar consigliamo l'iscrizione alla newsletter e chi non l'avesse ancora fatto può scaricare gratuitamente la versione trial di RFM e di tutti i modi gli aggiuntivi con la quale testare il software sulle vostre strutture e anche sulle strutture che abbiamo utilizzato magari oggi sul webinar perché anche quelle sono disponibili sul sito internet nella sezione webinar e possono essere scaricate gratuitamente per qualsiasi domanda non esitate a scrivermi un'email o a contattarci telefonicamente e quindi io vi auguro buon lavoro con RFM e vi do appuntamento al prossimo webinar arrivederci e vi do appuntamento a